Ciao Gossip News, voi siete quelli sempre quelli, eh? Si sa già da qualche tempo, ma tu sarai la protagonista assoluta di Tutti i pazzi per amore 2. Sì, sì, io sono felicissima di questa cosa perché è una cosa veramente meravigliosa. Un po' preoccupata perché il confronto con Stefania è duro, è duro, è un'attrice straordinaria quindi sono un po' preoccupata. Spiegaci una cosa, tu dovrai praticamente interpretare la parte che è stata sua? Questo non lo posso dire. Non si è capito in realtà dai? Non te lo posso dire, guarda, credimi, quindi purtroppo sono stata assolutamente, insomma, bloccata su questa cosa quindi questo non ve lo posso rivelare. E che cosa piace di quella serie? Tutto, beh, mi piace il cast perché è un cast straordinario, mi piacciono i sceneggiatori, i sceneggiatori che c'è un gruppo di sceneggiatori in quale ci stiamo di Carametta, Ivan Cotroneo che sono dei sceneggiatori straordinari, quindi le storie sono proprio bellissime. E poi si canta e si balla. Sei brava a cantare? Ma a cantare non tanto, molto poco direi. A ballare sì, perché comunque ho fatto danza per tanti anni, quindi mi piace questa cosa. Grazie. Grazie. Grazie.